Il Consiglio di Amministrazione di GESAP, la società di gestione dell'aeroporto internazionale di Palermo, Falcone e Borsellino, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio del 2019, che sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci, con un valore della produzione pari a 78.751.918 euro, più 5,24% rispetto al 2018. Un risultato lordo della produzione di 8.206.301 euro ed un utile netto di esercizio di oltre 5 milioni di euro, più 15,41%, positivo per la sesta volta consecutiva. Gli elementi che hanno accresciuto il margine operativo sono l'aumento del traffico sullo scalo, più 5,5% dei movimenti degli aeromobili, più 6% dei passeggeri, più 6% del tonnellaggio merci, che ha fatto lievitare i ricavi di oltre 4,6 milioni di euro, più 6,55%. Un minor peso dei costi di produzione, nonostante l'aumento, proporzionalmente inferiore all'aumento dei ricavi, meno 4%. C'è stata una crescita del valore aggiunto del 7,34%, che indica il recupero di produttività. Lo sviluppo del traffico per il 2020 ha subito un brusco e devastante arresto a partire dalla seconda settimana del mese di marzo, a causa dell'emergenza pandemica di Covid-19. L'aeroporto di Palermo è rimasto aperto e operativo, ma il drastico taglio dei voli effettuato dalle compagnie aeree ha fatto segnare il calo del 76% nelle prime tre settimane di marzo e successivamente una riduzione del 98%, in media 250 passeggeri al giorno rispetto allo stesso periodo del 2019. I movimenti sono invece calati il 94%. La GESAP ha posto in essere tutte le iniziative possibili allo scopo di supervisionare e coordinare tutti gli aspetti sanitari di competenza, quelli operativi, quelli infrastrutturali, commerciali ed economico-finanziari, connessi all'emergenza, riduzione dei costi, introduzione della cassa integrazione e guadagni straordinaria per 12 mesi, azzeramento delle ferie immaturate e non godute, blocco dello straordinario. Dal 1 marzo, dato in cui l'emergenza ha prodotto visibilmente i suoi effetti sul trasporto aereo, il traffico sullo scalo di Palermo si è progressivamente ridotto sino a raggiungere 202 passeggeri al giorno ad aprile e 330 passeggeri al giorno nella prima decada di maggio.